Ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dai pastori Claudio Paschè e Donato Mazzarella. Cari amici e care amiche in ascolto, buongiorno. Vi proponiamo il primo di una serie di quattro culti del mese di novembre che facciamo insieme i pastori delle chiese valdesi di San Secondo di Pinerolo e Prarostino. Vi invito a ritrovarci alla presenza del Signore. Il Signore è vicino, si avvicina a noi con la sua parola, col suo spirito. Sorelle fratelli ci dia il Signore occhi per vedere, orecchie per udire, bocca per proclamare la sua presenza in mezzo a noi. Dice il Salmo 95. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con i salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un grande re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, poiché Egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Preghiamo. Signore eccoci qui davanti a te, con gioia. Siamo giovani e vecchi, uomini e donne, piccoli e grandi, ma tutti insieme vogliamo dirti grazie per questa giornata, per ciò che tu ci fai vivere, perché nei momenti di gioia abbiamo te come fonte del nostro ringraziamento e nelle difficoltà della vita sappiamo di poter ricevere da te speranza eterna. Fa che restiamo sempre con te, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Vi invito ad ascoltare una parola che ci aiuta a riflettere, a pensare alla nostra condizione di uomini e donne che sbagliano. Il profeta Amos al capitolo 8 dice, ecco vengono i giorni, dice il Signore, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora vagando da un mare all'altro, dal settentrione al Levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Questo nostro tempo è caratterizzato dal non cercare la parola del Signore, dimenticarsi di essa. Noi non vorriamo appartenere alla schiera di quanti fanno così e tante volte però ci succede e quindi chiediamo al Signore il suo perdono, ma siamo anche convinti che laddove il peccato è abbondato, la grazia sovrabbonda e il perdono del Signore non è mai lontano da noi. La prima lettera ai Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo dice, Dio non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Care sorelle, cari fratelli, il Signore dona la sua salvezza a tutti noi che lo invochiamo con fiducia, fortificati dal suo perdono, viviamo nella gioia della sua presenza e nella sua pace che crea rapporti fraterni. Amen. Vi propongo la prima delle due letture bibliche che ascolterete quest'oggi, la seconda sarà letta dal predicatore, dal pastore Mazzarella, prima della meditazione. In Filippesi 2, dal versetto 5 al versetto 11, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Alla gloria di Dio Padre. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con tutto il cielo eterno è sempre a me vicino. E' 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 sempre a me vicino. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a Lui e lo servivano. Il Signore benedica per noi la lettura e l'ascolto della Sua parola. Cari fratelli e care sorelle in ascolto come vediamo abbiamo assistito a qualcosa di strano. Cioè anche Gesù è tentato. Io quando ero ragazzino non me lo potevo proprio immaginare che Gesù potesse essere tentato. Ma non ci deve meravigliare. Abbiamo ascoltato nella prima lettura come il Signore Gesù si è abbassato, Dio in Lui si è abbassato, ha assunto la nostra natura umana e ha condiviso anche nella tentazione, anche nella sofferenza, anche nella prova la nostra natura. E questa tentazione avviene nel deserto. Il deserto è visto nell'Antico Testamento in chiave positiva il luogo dell'incontro con Dio, il luogo del passaggio dalla schiavitù al cammino verso la salvezza, ricordiamo l'uscita dall'Egitto, del popolo di Israele, e il luogo in cui Dio forgia il suo popolo, lo mette alla prova, fa sì che affini la propria fede. Nel Nuovo Testamento il deserto è un luogo di preghiere e di decisione, pensiamo alla predicazione di Giovanni Battista, ma è anche il luogo dove si incontra la tentazione, proprio per il fatto che è un deserto. E come Gesù anche noi sperimentiamo a volte il passaggio nel deserto della nostra vita, quando ci troviamo soli con noi stessi, con la nostra coscienza, e tante volte ci sentiamo abbandonati. E lì si affaccia puntuale la tentazione. Tentazione di che? Beh, innanzitutto la tentazione di adeguarci alla mentalità di questo mondo, un mondo che per tanti versi è egoista, è violento, è disonesto, è indifferente. E allora diciamo, beh, ma se tanti fanno così e vanno avanti, ma lo faccio anch'io, seguiamo la corrente, è più comodo, è più facile. Ma ci sono altre tentazioni. Un'altra tentazione è quella di ritirarci in buon ordine nella sfera del privato. Dici, ma chi me lo fa fare? Specialmente chi che sono mai in passato si è impegnato. Dici, ho già dato, ho fatto tanto, adesso facciano altri. Poi c'è ancora un'altra tentazione, forse più subdola, che difficilmente mettiamo in piazza, ma certe volte ci pensiamo. Brontolando, cerchiamo di insegnare a Dio il suo mestiere. Eh, se io fosse al posto di Dio, farei scomparire le armi, eh, farei crepare tutti i malvagi, eccetera, eccetera. Qualche volta succede, non lo so, forse in quel momento pensiamo di saperne più di Lui. C'è anche la tentazione di ritirare la fiducia riposta in Dio, perché? Perché Dio ha deluso le nostre aspettative, ha deluso le nostre speranze. Ma ecco che la parola del Signore, attraverso la presentazione di queste tentazioni un po' emblematiche che subisce Gesù, vuole dirci qualche cosa, ci fa capire qualcosa. Questa tentazione subita da Gesù è triplice. Innanzitutto la tentazione dell'egoismo. Se tu sei figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane. Ecco, il pane ottenuto col miracolo. Ma il Signore ci insegna che il pane deve rimanere legato al lavoro, non al miracolo. Anche un'altra volta il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù, dopo una moltiplicazione dei pani, veniva cercato, volevano farlo re perché avevano mangiato senza lavorare. Ecco, e Gesù fa capire che non è quello il messaggio che voleva portare. Il vero miracolo, sappiamo qual è? È una società in cui vi sia giustizia e pane per tutti. Questo è il vero miracolo. Che ci sia giustizia e pane per tutti senza sperequazioni. Abbiamo la seconda tentazione che è la tentazione dell'esibizionismo, il miracolo sorprendente. La ricerca dello straordinario per suscitare la fede. Ah, se il Signore compisse un segno grande, visibile da tutti, quanti fedeli acquisterebbe? Eh, sembra riecheggiare il grido di duemila anni fa. Scendi dalla croce e ti crederemo. Ma il Signore non vuole manifestarsi attraverso cose eclatanti. Il Signore agisce a volte nelle piccole cose e il miracolo non ha lo scopo di suscitare la fede. Generalmente il miracolo è la risposta alla fede che noi professiamo nel Signore. Infine c'è la tentazione del fascino dei beni di questo mondo, che poi sono sempre gli stessi, si rivestono di vestiti nuovi man mano che si va avanti, ma in pratica sono simili. Il fascino del denaro, il possesso, il fascino del successo a tutti i costi, il fascino del potere. E Satana dice a Gesù prostrati e adorami e io te li darò. Ecco, devo dire la verità, io ho ancora un ricordo di quando ero ragazzino, dicevo ma sto diavolo è proprio scemo, ma può mai pensare che Gesù, il figlio di Dio, si va a prostrare davanti al diavolo. Poi crescendo ho capito che forse era un modo un po' simbolico di esprimersi, è come se Gesù, è come se il diavolo dicesse a Gesù prostra non te ovviamente, ma le tue convinzioni dinanzi a quello che offro io. Riconosci almeno una volta che quello che offro io è migliore di quello che offri tu, che quello che posso dare io dà più soddisfazione. La risposta di Gesù è no, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che Gesù ha vinto la tentazione dopo averla subita e l'ha vinta nella sua natura umana, quindi dopo aver condiviso completamente la nostra condizione. questo ci fa capire che con l'aiuto di Dio la tentazione può essere vinta, è superabile, Gesù ce lo ha dimostrato. Ma come ha fatto Gesù? Le risposte che dà a Satana sono tutte incentrate innanzitutto su una corretta interpretazione della Bibbia, perché la Bibbia può essere interpretata anche diciamo in malo modo, lo ha fatto stesso Satana, ha citato le scritture per indurre Gesù in tentazione, ma Gesù interpreta correttamente e poi si fida pienamente di Dio, questa assoluta fiducia in Dio. Gesù preferisce confidare pienamente e soltanto nel Padre piuttosto che risolvere in modo diverso i suoi problemi, anche urgenti, come quelli della fame che certamente avrà dovuto avere dopo un periodo così lungo di digiuno. E allora la nostra speranza qual è? La nostra speranza che diventa certezza nella fede è che anche noi possiamo vincere le tentazioni. Anche il nostro mondo, fratelli e sorelle, può vincere il male. Anche la nostra Chiesa può ritrovare l'energia e l'entusiasmo di un tempo. E' questo l'Evangelo di oggi. In Gesù Dio è venuto in mezzo a noi da fratello, ha rivestito la nostra debolezza, ma ha vinto la tentazione. Questo ci dà speranza e probabilmente ci insegna qualcosa di più su Dio e su noi stessi. Amen. Dio è venuto in mezzo a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo. Qual corizzonte diventa l'ascuro e la tempesta sorge in un palè, veglia il mattino a sera, veglia ancora, si legna il mattino a sera, veglia ancora, veglia ancora, veglia ancora, veglia ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora ci prepariamo a terminare questo nostro culto raccogliendoci in un momento di preghiera, di intercessione, che significa preghiera per gli altri, per le situazioni del mondo, per le cose che ci preoccupano o per le cose per le quali vogliamo ringraziare. Preghiamo. Ti ringraziamo, nostro Signore, perché ci hai permesso di ricordare che Tu sei in mezzo a noi e che ogni giorno è veramente il giorno della Tua grazia. Perché Tu hai sconfitto il peccato umano, indicandoci la strada che conduce a Dio. Signore, aiutaci a camminare in questa strada della salvezza, nonostante i tanti errori, le cadute, aiutaci sempre a rialzarci. Ti vogliamo preghiamo ora per i popoli che hanno fame e sete di cibo e di giustizia. Ti preghiamo per quelli che sono nell'afflizione e nella guerra. Ti preghiamo per quelli che sono in eterno conflitto. Tu solo puoi aprire loro la via della vera giustizia, nella pace, nella sopportazione reciproca. Infine, Ti preghiamo per noi stessi, i nostri cari, gli ammalati, quelli che sono troppo anziani e che non sopportano il peso degli anni, quelli che sono soli e quelli che sono stati visitati dal lutto. Sii vicino a ciascuno con la Tua parola e il Tuo spirito faccia di noi Tuoi ambasciatori affinché possiamo, laddove ci è possibile, porgere una mano, fare attenzione alle loro difficoltà, consolare, ridonare speranza attraverso l'annuncio della Tua parola. Dacci sempre, oh Signore, di poterci consolare gli uni e gli altri, le une e le altre, nel nome di Cristo. Nel Suo nome ti diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga al Tuo regno. La Tua volontà sia fatta in terra come è fatta nei cieli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre la tentazione, ma liberaci dal male, poiché a Te appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E ci salutiamo ora ascoltando queste parole di benedizione finale che vengono dalla parola di Dio, dalla seconda lettera ai Tessalonicesi. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la Sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, che Lui consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Ora e sempre. Amen. Arrivederci e buona giornata, care sorelle e cari fratelli.